Buongiorno a tutti, sono Ferdi, oggi sono in Turin, Nord Italia, come ti ho promesso, oggi sono nel Museo Nazionale dell'automobile. Come ti ho detto, ora voglio fare solo comparazione con molti, molti, spettacolari, perché credo sia il meglio. Come ti ho visto anche una vera, molto, molto, meravigliosa, siamo qui, spero che potete divertire con me questa spettacolazione. Oggi è molto caldo qui, ma non è un problema per voi, ok? Spettacolari, ora è il momento di andare a un'altra parte, ok? Andiamo! Andiamo! E oggi ho portato solo 4 cams, la GoPro Hero 5 Black, la Ti T5, la S J6 Legend e la EE 4K, ok? Perché, come sai, non è facile fare un video di fotografare dentro del museo, spero che potete capire me. Ok, ora andiamo, ciao! Siamo dentro del museo, ora voglio cominciare per la comparazione, ora sto fotografando con la GoPro Hero 5. Ehm, la staff mi ha detto che devo andare al secondo luogo, magari il primo luogo non è ancora pronto, non lo so, non lo so, ma non lo so. Ma non è un problema, c'è una altra parte qui, ok? Ma non è un problema, non lo so, ma 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 non lo so. È tutto cambiato, questo museo è da Gianni Agnelli, ok? Ok, siamo dentro. Oh, oh mio Dio. Ok, ok, ora comincio la comparazione.